Puoi parlare direttamente con il maestro Letterius e fissare un appuntamento riservato più vicino alla tua città. Puoi contattarlo 335 65 92 908. Se trovi il telefono occupato, non ti preoccupare, le linee sono intasate e se vuoi puoi riprovare in qualsiasi ora del giorno. Il telefono del maestro Letterius è attivo fino alle ore 21. Letterius è custode di tutti i segreti dell'antica magia. È ricercatore del mondo dell'occulto. Mette a tua disposizione i ritrovati più potenti. Toglie fatture e malocchio tutta la negatività in ambienti e persone. Attraverso riti magici del lontano 500, Letterius toglie ogni tipo di male. La fattura è un'azione con influenza negativa e si divide in malefica e satanica. L'operatore dell'occulto Letterius, con le sue facoltà, annienta il male. Non disperare, quando attraversi un lungo periodo di confusione, di disturbo, di malessere, puoi ritrovare il sorriso e il benessere. Cerchi una soluzione al tuo problema? Cerchi risposte vere? Il maestro Letterius è quello che fa per te. In questo momento, mentre vedi il filmato, Letterius è proprio nella tua città. Puoi parlare direttamente con il maestro Letterius e fissare un appuntamento riservato più vicino alla tua città. Puoi contattarlo 335-6592-908. In lui esiste una forza sovrannaturale. È capace di guidarti nella risoluzione di tutti i tuoi problemi, con serietà e competenza. Letterius ti ascolta, ti consiglia, esaminando dettagliatamente il tuo caso, anche il più disperato. Diversi diplomi e attestati sono stati rilasciati al maestro Letterius per l'impegno e la professionalità dimostrata nella propria missione, nel campo dell'astrologia, delle scienze occulte, del paranormale e delle discipline parallele. Risolve problemi difficili, anche impossibili. L'astrologia, la numerologia, la chiromanzia, la pranoterapia danno un senso preciso al tempo e ti aiutano a capire gli eventi e la natura umana.